salve ragazzi e bentornati dal vostro guru mike oggi siamo tornati in un nuovo video sul canale un video spacchettamento pokemon andiamo oggi ad aprire queste sette bustine di spade scudo veramente veramente golose golose prima di iniziare lo spacchettamento ovviamente vi ricordo di supportarmi con un bel like iscrivetevi se non siete ancora iscritti che state aspettando perché chi è che vi porta questi contenuti belli golosi e ovviamente anche di lasciare un bel like un commento che vi rispondo sempre e vi ricordo inoltre che abbiamo il link qua sotto in descrizione dei miei amici collaboratori passate anche da loro sono bravissime persone portano contenuti anche loro a tema pokemon e anche altre cose insomma passate spaccate tutto come al solito bene adesso partiamo con il nostro spacchettamento andiamo ovviamente come al solito c'è il controllo della gelis immagino che controllo faccia la gelis però lasciamo stare o vai allora andiamo con la prima bustina vediamo di pullare qualche bella carta oggi ok allora vediamo un po primo codice ho una bellissima energia fuoco per iniziare reboot bellissimo bello bello bacca prugna energia aurora panward scorbanni nikit cinciu diglett golden reverse e attenzione subito il primo drop alla prima bustina vediamo cosa abbiamo mi sembra una v max esatto uuuh son giorni v max iniziamo così subito col botto una bellissima v max che tra l'altro mi mancava quindi sono contento di questa cosa molto molto bene bella 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 questa questa v max bella 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 niente da dire guarda lì che bellezza bella molto bella bene iniziamo subito benissimo con una bella v max andiamo adesso con la seconda bustina codice e let's go energia metallo uh galvantula bello questo artwork di galvantula palloncino poke bimbo molto carino anche questo crebbi mincino pokemon bellissimo ponita di galar cotoni scorbanni abbiamo piatto di metallo reverse e sotto un oranguru holo molto carino molto molto carino bello dai niente male anche questa seconda bustina una bellissima olografica ora anguru andiamola a slivare eccola qui slivata e protetta proteggetele sempre le vostre carte bella 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 bene e anche questa seconda bustina ci ha regalato una bellissima olografica che anche questa mi mancava andiamo con la terza bustina codice e andiamo a vedere questa terza bustina energia lotta uh ductrio molto carino addetta del centro pokemon recupero di energia bleep bug baltoi volu joltik salandit uh guzzly reverse molto carino e sotto abbiamo un cinderace holo mamma mia che spettacolo molto bella anche questa mi mancava mamma mia oh su tre bustine due holo e una v max tanta tanta lana molto molto bene bella veramente bella spettacolare bene molto molto bene vai andiamo avanti questo spacchettamento sta andando sta procedendo molto bene adesso mamma mia com'è pesante questa la sento la sento carica codice e andiamo energia buio amo normale che c'è anche gold bit uh it molly molto bello questo artwork cinciu diglet ferraseed golden roselia bello nine tails reverse che spettacolo di artwork bella bella e sotto un real album ancora olografico ma che cos'è il pack opening delle olografiche questa qui è ristampata anche in destino splendente se non erro o forse una versione simile però un'altra holo vabbè non ci si lamenta quando escono le holo per me è sempre comunque un pull molto bene molto bene anche questa credo che mi mancava quindi non male direi non male e voglio dare un attimo voglio dare un un altro sguardo a questo nine tails perché veramente è bello veramente bello bello nulla da dire ok andiamo avanti andiamo avanti con la bustina del bellissimo lapras codice e andiamo energia acqua al dito del centro pokemon seking itmonchan prima avevamo trovato itmon lì dall'altra parte della montagna rayorn roselia ferrosid crabby zigzag di galar molto bellino raydon bello reverse e sotto un noctowl raro va bene ci può stare dai ci può stare una rara dopo tutte queste olografiche una rara ci può stare va bene continuiamo continuiamo dai vogliamo trovare qualcosa di bello bello grosso per questo pack opening vi regalo il codice come sempre e andiamo energia metallo energia aurora la pecora quillfish quillfish credo che si pronunci così sobel blipbug baltoi volu joltik claydol reverse e sotto abbiamo una v credo che sia una v che è regiroc v molto bellino regiroc mi mancava anche questa molto bene molto molto bene andiamolo subito a slivare eccolo qua eccolo perfetto bellissimo regiroc bene molto bene devo dire questo pack opening andiamo con l'ultimo bustina sperando in qualcosa ancora che già ci abbiamo ci ha regalato insomma di diverse cose ma non ci basta vogliamo altro codice e andiamo allora energia buio mantine martello dirompente scambio roselia ferrosid crebbi ancora zigzag di galar gossiflar mincino reverse e sotto un frozmot olografico vabbè questo qui è stato il pack opening delle olografiche ne abbiamo trovate ben quattro in sette pacchetti però non c'è male dai comunque anche questa credo che sia ristampata sempre in destino splendente se non erro e però non c'è male va benissimo così va benissimo così molto bene bene io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like al video di supporto che abbiamo trovato veramente della roba bella golosa iscrivetevi spaccate tutto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao